Giuliano Pisapia, perché votare Marco Doria alle comunali genovesi? Perché partecipe di quel vento nuovo che vuole buona politica, che non è ancorato al passato, però a memoria del passato, ma guarda al futuro. Io credo che sia importante che Marco Doria diventi sindaco di Genova, perché insieme a tante altre città dove è cambiato il vento, dove seppur con mille e tra mille difficoltà governano persone che credono nel futuro e credono nel futuro del proprio paese, credono nella giustizia, hanno dei valori condivisi, insieme possiamo veramente cambiare l'Italia. Quindi dopo di lei a Milano, Luigi De Magistris a Napoli, Zedda a Cagliari, Marco Doria continuerà questo vento arancione? Io sento moltissimo questo vento arancione, questo vento di rinnovamento della politica, che non è solo a Genova, anche se Genova è sicuramente importantissima, ma è veramente in tutta la Lombardia, a Monte, in tanti altri posti dove sono stato in questo periodo, si sente veramente un entusiasmo, una partecipazione, un protagonismo dal basso. E questo veramente darà lo spazio poi per poter far sì che il cambiamento di una città diventi il cambiamento complessivo delle modalità di fare politica, al servizio di tutti e non dell'interesse di tutti.